Crisi di governo aperta con il dibattito sulla sfiducia in Senato tra una decina di giorni. A prescindere dallo scioglimento delle Camere e dalla data dell'elezione per l'esecutivo Conte, il conto alla rovescia è già scattato. Dopo la sfiducia, se dovesse restare in carica, sarà solo per gli affari correnti. Pesanti, secondo il Movimento 5 Stelle, le ripercussioni per l'Abruzzo, visto che ad oggi ci sono ancora diversi dossier su cui manca la firma del Premier Conte o quella dei ministri in carica, come l'ok alla nomina del commissario per la messa in sicurezza del sistema Gran Sasso e il blocco all'aumento dei pedaggi a 24 e a 25. Preoccupazione rimarcata dal deputato pentastellato Antonio Zennaro. Monitoriamo con apprezzione la situazione perché ci sono delle cose che si bloccherebbero immediatamente. Ad esempio, noi abbiamo fatto il blocco dell'aumento delle tariffe autostradali a 24 e a 25 che le tariffe aumenterebbero subito dopo l'estate. Un altro problema, ad esempio, è il commissario per il Gran Sasso, anche in questo caso salterebbe, e poi altre nomine importanti che bloccano la situazione, ad esempio i parchi, il Parco Nazionale d'Abruzzo e il Parco Nazionale della Maiella, che non avrebbero né presidenti né direttori, quindi un ulteriore blocco per quanto riguarda l'attività operativa dell'entroterra. Un altro problema, poi come membro della Commissione Bilancio, oggettivamente rischiamo in maniera forte l'aumento dell'IVA con un grave danno per tutti i consumi, per tutte le attività artigiani, commercianti. Quindi, insomma, ci sono tanti fattori di rischio, però noi come Movimento 5 Stelle siamo pronti a non rinvenienza, anche andare a votare senza nessun problema, non ci fa nessun problema il voto. Se c'è bisogno di dare la parola agli italiani, noi ci siamo. Noi abbiamo lanciato una serie di proposte con il nostro capo politico, tuttavia l'Abruzzo ha una serie di problemi che, con lo scioglimento immediato della Camera, non si potrebbero firmare tutta una serie di, come in questo caso, come ho detto, anche il commissario per il Gran Sasso, ci sono 140 milioni di euro pronti per fare i lavori, che salterebbero se andrebbe poi a un nuovo governo e con tempi ormai, insomma, andremo all'anno nuovo tra una cosa e l'altra. Sul fronte ricostruzione anche qui ci sarebbe un nuovo blocco? Sì, sulle ricostruzioni ci sono tutta una serie di decreti autoattivi, anche le ordinanze commissariali in questo caso si bloccherebbero, anche in questo caso perderemo dei mesi preziosi. Questo è un atteggiamento, spesso si ovviamente pensa più magari al proprio beneficio di partito e meno poi alle conseguenze che hanno i cittadini tutti i giorni, i problemi che hanno della vita di ogni giorno.